Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovata al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del telegiornale dedicata alla grave situazione genico-sanitaria che si è registrata a Gela a causa della perdurante presenza di vere e proprie discariche a cielo aperto. In questi giorni vi abbiamo proposto servizi dedicati al centro storico e alle zone che insistono nel perimetro urbano. Oggi ci siamo spostati a Manfria e a Piano Marina. Vediamo. La torre di Manfria si erge su una collina sovrastante alla frazione e risulta visibile da tutto il golfo di Gela, così recita Wikipedia. Da oggi consigliamo di aggiungere che si erge su una collina sovrastante alla frazione sommersa da rifiuti. Le immagini sono di questa mattina. Una situazione indecente, spazzatura ovunque. La definiamo una violenza ambientale nei confronti del nostro territorio. Sacchi di mondizie in ogni dove, carte, cartacce, bottiglie di plastica, pannolini abbandonati. Anche materassi, in curia del rispetto della natura. Un atto di inciviltà che non ha eguali e che oramai si sta ripetendo con una certa frequenza. Con il risultato che l'Olezzo è nell'aria, il caldo torrido aumenta i problemi. Scarafaggi e topi vanno a spasso per queste improvvisate e pericolose discariche. Con la nostra telecamere ci siamo spostati in Contrada Piano Marina. Ed anche qui lo spettacolo è indecoroso. Manfria, Borgomanfria, Piano Marina, Roccazzelle. Zone balneari completamente invase da montagne di rifiuti. E i rifiuti si trovano anche tra gli scogli del porto rifugio. C'è l'inciviltà dei gelesi che sporcano e violentano ogni giorno la loro città. Ma c'è anche l'inerzia di chi deve occuparsi della pulizia. E manca, ci permettiamo di sottolineare, anche un'opera di sensibilizzazione verso i cittadini a cui andrebbero fatte lezioni continue di educazione ambientale. Magari con dei cartelli. Dunque bisogna intervenire subito. È inutile affrontare il problema solo a parole. Ci vogliono i fatti immediati. Chi ha le competenze e le responsabilità decida in maniera seria al fine di affrontare quella che è divenuta una vera e propria emergenza sanitaria. Noi non è che vogliamo protestare nei confronti dell'amministrazione perché capiamo che in questo momento sono in una fase iniziale quindi diamo tutto lo spazio necessario a che l'amministrazione si assesti. Però voglio dire, delle situazioni di fatto reali di emergenza sanitaria e di questo stiamo parlando, il sindaco, l'amministrazione si deve rendere conto che questa situazione non può andare più avanti. e voglio dire, faccio una provocazione ma la provocazione non la faccio all'amministrazione, la faccio alla Tecra. Mi dici quanto mi costa? La pago io. Tanto oramai siamo abituati a pagarci l'acqua, ci stiamo facendo la condotta per l'acqua. A questo punto vuol dire che anche i cittadini si tasseranno per la raccolta dei rifiuti. Mi dici per piacere quanto mi costa fare, togliere questo cumulo di immondizia a piano marina? Dimmi quant'è, te lo pago io. Senza che, quindi carico dei costi, l'amministrazione. Cittadini di Gela e forestieri che venite nel nostro territorio, il nostro biglietto da visita non è sicuramente l'immondizia, il nostro biglietto da visita è il mare, il sole, la disponibilità dei cittadini ad accogliervi, quindi questo deve essere il nostro biglietto da visita. Tutto questo cumulo di immondizia attira anche i cani randaggi e questo causa sicuramente il rischio per l'incolumità dei passanti, perché ovviamente i cani ti inseguono, ringhiano e c'è anche il rischio che ti azzagnino. Tanto per dirne una. E poi noi ci aspettiamo anche che venga organizzato un servizio di raccolta, un servizio adeguato di smaltimento dei rifiuti, possibilmente tramite la predisposizione di cassonetti per il conferimento dei rifiuti differenziati e che il comune adotti anche delle misure per prevenire che avvenga questo scempio, per prevenire e, qualora fosse il caso, anche reprimere atteggiamenti e comportamenti devianti, perché un conto è risolvere l'emergenza, un conto è poi fare in modo che non succeda più tutto ciò. Ma di chi è la colpa? La colpa non è solamente di chi si dovrebbe occupare legittimamente di questo problema, sicuramente anche dei cittadini poco attenti al rispetto dell'ambiente e al rispetto anche di chi abita in questa zona. Non capiscono probabilmente sia gli uni che gli altri, quindi le istituzioni, ma anche i cittadini, che questo di certo non è un bel vedere e non è una buona presentazione per chi viene a Manfria che a nostro avviso è un paradiso, che andrebbe tutelato e valorizzato, non abbandonato al degrado totale. Adesso ascoltiamo le dichiarazioni del sindaco di Gela, Domenico Messinese. Il problema Gela dei rifiuti è che ha prenduto una dimensione notevole, è per questo che questa mattina ho deciso di prendere sotto la mia diretta responsabilità la delega rifiuti. Ieri sera già ho emesso un'ennesima ordinanza alla terza per fare ripulire la città, ma non è possibile andare avanti con le ordinanze. E' per questo che questa mattina, oltre ad avere preso la delega ai rifiuti, ho indetto un tavolo tecnico con il comandante dei vigili urbani, la dottoressa Zanoni, dirigente del servizio, con diversi assessori della Giunta e il rappresentante della Tecra, il quale durante questo tavolo si è alzato e se n'è andato. E chi è che si alza e se n'è andato per me ha sempre torto. Noi siamo arrivati a una conclusione, perché io devo tutelare la salute dei gelesi, e quindi sto emanando una ordinanza con effetto immediato per rimettere i mille cassonetti previsti da capitolato nelle zone periferiche della città. Questo è un intervento momentaneo che consente di dare quello sfogo alla cittadinanza per poter depositare i rifiuti e nel frattempo incominciare a pianificare una serie di interventi che si concretizzeranno nei mesi successivi. Però io non posso mantenere la città in queste condizioni, quindi è chiaro e nemmeno posso far cadere sulle spalle dei cittadini dei costi notevoli che molti non possono sopportare. Quindi questo primo intervento è un intervento transitorio che consentirà la costruzione dei centri comunali raccolta, cosa che ad oggi non si è fatto. L'unico centro comunale raccolta che c'era aveva tutta una serie di illegittimità che non era possibile nemmeno mantenere, ci costava 10 mila Euro al mese, tra le altre cose, è di poter mettere, sperimentare dei modi nuovi per la raccolta dei rifiuti che possono realmente funzionare e portare dell'economicità ai cittadini. Un'altra cosa importante è che verranno identificati i controlli da parte della Polizia Municipale, questo non perché questa amministrazione voglia fare cassa, ma perché ci sembra giusto il rispetto delle regole e non far pagare sulle spalle di chi rispetta le regole e dei costi aggiuntivi. Gela è una città per le persone corrette, non è fatta per quelli che si sentono sperse, come direbbe qualcuno. Di rifiuti acqua e di altri problemi che attanagliano la città di Gela parleranno questa sera i componenti del movimento Trinacre dell'Associazione Aria Nuova, appuntamento previsto per le 19 in piazza Umberto I. Adesso occupiamoci di un gravissimo incidente stradale che si è verificato a Caltagirone. Sono due le vittime, sentiamo. Colto da Malore alla guida muore in veste pedone e finisce la folle corsa contro il muro in cemento armato retrostante la caserma dei carabinieri e gli uffici della Polizia stradale. Scenario di questa tragedia che si è registrata a Caltagirone sono le vie Pietro Novelli e Fisi Cara presso Rotonda Magellano. Il bilancio è purtroppo di due vittime di cui il conducente di una Ford è un pedone che ignaro di quanto stava accadendo è stato travolto. Ecco la ricostruzione dei fatti. Vittima di questo dramma è Francesco Barresi pensionato, 74 anni, di Caltagirone che viaggiava in compagnia della moglie a bordo della sua vettura, una Ford. La macchina che proveniva dalla piccola rotatoria di via Fisi Cara ha iniziato a zigzagare lambendo dapprima la campana della raccolta vetro dei rifiuti che lo ha rimesso in carreggiata e proseguendo in velocità ha scardinato una segnaletica stradale attraversando poi una porzione di terreno incolto. Nel momento in cui ha tagliato via Pietro Novelli ha anche travolto un pedone e sempre in accelerazione ha proseguito per qualche metro ancora fino a quando si è arrestato il motore. Il pedone è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato ricoverato all'ospedale Gravina di Caltagirone dove è poi deceduto a seguito delle gravi ferite riportate e dei politraumi. La ricostruzione del sinistro è stata affidata agli agenti della Polizia Municipale di Caltagirone che hanno compiuto i rilievi. Una tragedia insomma nella tragedia la notizia del duplice decessa ha creato comprensibile commozione in città. Ad un mese dall'ultimo appello che il sindacato confederale ha rivolto al prefetto di Caltanissetta si registra il silenzio dell'istituzione ed una grave disattenzione nei confronti del protocollo d'intesa siglato al Ministero dello Sviluppo Economico il 6 novembre scorso in merito alla riconversione dello stabilimento Eni di Gela. Nell'ultimo semestre più volte il sindacato confederale ha rivendicato atti concreti per dare corso a tutti i punti che costituiscono al protocollo velocizzare l'iter per salvaguardare i livelli occupazionali e gli investimenti e riconoscimento area di crisi complesse relativa pubblicazione del decreto ministeriale in gazzetta ufficiale attivazione accordo di programma propedeutico agli investimenti e verifica delle autorizzazioni che il Comune di Gela la Capitanere di Porto la Regione Sicilia e il Ministero hanno la responsabilità di rilasciare. Già lo scorso 16 luglio CGL e Cisle Will hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori dell'indotto dell'ENI di Gela e congiuntamente a tutte le categorie del settore industria trasporti e servizi hanno denunciato le criticità derivanti di ritardi nell'attuazione del protocollo citato. Adesso si scende in campo per lunedì 27 luglio prossimo alle 9 si terrà un sit-in di protesta dinanzi alla prefettura di Caltanissetta. Intanto il deputato nazionale del Partito Democratico Giovanni Burtone ha presentato un ordine del giorno al Governo nazionale impegnandolo a convocare in tempi rapidi il tavolo di verifiche e a dare per quanto di sua competenza un nuovo impulso al rilancio del sito industriale di Gela prevedendo un monitoraggio costante su base bimestrale in merito all'avanzamento dei punti previsti dall'accordo del novembre scorso al fine di dare risposte certe ai lavoratori e al territorio. Signora Mezzasalma lei si è rivolta alla nostra redazione per sollevare un problema e noi abbiamo raccolto la sua istanza. Lei ha un problema di salute e una necessità urgente di eseguire un controllo una TAC. Che cosa è accaduto e come sono andati i fatti? Che ho fatto questa prenotazione mi hanno detto prima il 2 luglio va bene il 2 luglio mi chiamano signora dice che fa? Dice la possiamo anticipare dice la TAC dice per il 30 giugno va bene dico anzi è meglio per me perché avevo il pensiero di farmela subito e sapere quello che c'era invece arriva il 30 giugno vado là prima mi avevano detto di fare certe analisi e li ho fatti quelli che c'erano scritti la dottoressa me li ha fatti fare arrivo là il 30 giugno guardano no dice qua manca un altro esame va bene quale manca? me l'hanno scritto faccio di nuovo gli esami dico e quando devo venire? come sono pronti? dice venga faccio questi esami neanche passano due giorni il 3 luglio ci sono andata no dice la macchina dice è rotta aspetto una nostra chiamata come? dico tanto tempo che aspetto e la macchina è rotta c'era un problema un difetto di funzionamento con la TAC le hanno detto con il contrasto con il contrasto si la macchina è rotta aspetto dice una nostra chiamata dico va bene me ne vado passo un'altra circa una settimana e mezzo non mi sento chiamare e ci vado all'ospedale dico come mai questa macchina dico ancora è rotta si signora dice ancora non l'hanno giustata il direttore sta provvedendo un ospedale con tanti ammalati che ci sono dovrebbe provvedere subito lei vuole rivolgere un appello alle autorità sanitarie competenti perché ci raccontava che ha un problema di salute ha necessità urgenza di fare questo controllo e non ha la disponibilità economica di potersi rivolgere ad una struttura privata certo io ho necessità urgentemente di farmi questa TAC perché la mia dottoressa vedendo che io sto dimagrendo di giorno in giorno dipende gli esami che ho fatto ha ritenuto opportuno di farmi questa TAC con il contrasto per vedere quello che c'è speriamo che non c'è niente quindi cosa vuole dire voglio dire che questa TAC è quasi da un mese che mi dicono che mi devono chiamare invece ancora io non vedo nessun risultato che non mi chiamano che ho saputo ancora che la macchina è rotta e ho ritenuto opportuno di fare questa come si dice questa denuncia questo chiarimento perché ce ne sono anche gli altri perché davanti a me mi hanno fatto vedere delle carte e mi hanno detto veda signora dice stiamo mandando a tutte il sindaco di Gela Domenico Messinese ha incontrato ieri pomeriggio in municipio il manager dell'ASP Carmelo Iacono si è parlato delle criticità dell'ospedale di Gela dei reparti da potenziare e riqualificare per migliorare i servizi sanitari in favore della cittadinanza è stato un incontro propositivo che si è svolto alla presenza di Carlo Varchi Vincenzo Catania Liliana Bellardita di Gelensis Populus e i rappresentanti sindacali settore sanità Maurizio Cirignotta Stefano Cannizzo e Salvatore di Natale sono i carabinieri che indagano sull'incendio che la scorsa notte intorno alle 4 ha coinvolto due auto in sosta in via La Pazza a Scavone il rogo ha interessato una Fiat Grande Punto e una Fiat Punto le due vetture appartengono ad un 50enne che vive nella zona più di 29 mila euro il costo medio mensile del Consiglio Comunale di Caltanistetta mentre 350.366 euro è il costo medio effettivo del Consiglio nel primo anno di amministrazione i 5 Stelle fanno i conti in tasca al civico consesso in un comunicato del deputato pentastellato Giancarlo Cancelleri si leggono date cifre e numeri del primo anno di attività del Consiglio secondo una ricerca effettuata dagli attivisti del Movimento in seguito ad uno degli accessi agli atti gli attivisti locali denunciano soprattutto le numerose sedute Lampo si tratta secondo quanto si legge nel comunicato di commissioni consigliari della durata inferiore di un'ora o di alcune della durata di 10-15 minuti appena mentre 108 è la media del numero delle commissioni svolte in un mese stando ai numeri dal mese di giugno del 2014 allo stesso mese del corrente anno quindi del 2015 ben 8 commissioni sono durate appena 10 minuti 2 commissioni sono state svolte in 15 minuti 5 sono terminate in 20 minuti e 24 commissioni hanno avuto una durata di mezz'ora circa insomma commissioni Lampo alla modica cifra come si legge nel comunicato di 42 euro lordi per ogni presenza per ogni consigliere in realtà il consiglio comunale si è insediato a fine giugno e la presidenza è stata eletta il 3 luglio dunque le commissioni hanno cominciato a lavorare a fine luglio quindi il tempo si restringe a maggior ragione la proposta dei 5 stelle è quella di chiedere aggiunte il sindaco di dimezzarsi l'indennità e di modificare il regolamento delle commissioni al consiglio comunale introducendo il limite massimo di convinzione e di durata per ciascuna non si placa la questione ZTL per i commercianti del centro storico riuniti nel consorzio Gela Centro la protesta che prevedeva di abbassare le saracinesche delle attività commerciali mercoledì scorsa a partire dalle 19 che in un primo momento aveva visto l'adesione di tutti i commercianti della zona ero subito rientrata dopo che il sindaco messinese aveva garantito un intervento immediato tramite la creazione di un link apposito nel sito istituzionale del comune di Gela al fine di permettere ai cittadini di esprimersi a favore o contro la zona a traffico limitato un provvedimento però che ha avuto come effetto quello di far accrescere il malcontento dei commercianti il consorzio infatti in un comunicato fa notare i rischi di una simile procedura innanzitutto la poca attendibilità circa l'identità di chi registrandosi potrebbe votare a riguardo seguita inoltre dal fatto che verrebbero automaticamente escluse le persone sprovviste di computer e quelle che non sanno usarlo come se non bastasse i commercianti non ritengono molto rispettoso allargare alla discrezione di tutta la cittadinanza un disagio che non conoscono visto che interessa soprattutto i titolari delle attività commerciali i commercianti hanno deciso che non si esprimeranno tramite voto sulla questione e aspetteranno di essere convocati dal sindaco messinese il consorzio Gela Centro non è contrario ma chiede che vengano garantiti i servizi necessari per permettere ai cittadini di poter passeggiare tranquillamente per le vie del centro storico e alle attività commerciali di non subire cali nelle vendite e quindi negli incassi è nata Asia in furna una splendida bambina di 3 kg e 350 g nipote del nostro collega Franco in furna corrispondente dell'agenzia giornalistica ANSA divenuto così nonno per la terza volta un saluto affettuoso di benvenuta ad Asia alla mamma Naomi al papà Mirko vice direttore della banca Montepaschi di via Venezia e dirigente provinciale del PD e i nonni gli auguri della nostra redazione ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco restate con noi bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale oggi l'unità operativa di riabilitazione di via Madonna del Rosario a Gela rimarrà chiusa per disinfestazione dei locali gli uffici riapriranno lunedì 27 luglio buone notizie per i 330 dipendenti dell'ex provincia che lo scorso 22 luglio hanno guardato in diretta streaming la 259esima seduta all'Ars durante la quale sono stati approvati i primi tre articoli del decreto legge sui liberi consorsi comunali sono speranzosi i dipendenti dell'ex provincia nonostante temono il disesto finanziario e l'interruzione dei servizi per il 2015 per il solo esercizio di quest'anno le province le città metropolitane infatti per garantire il mantenimento degli equilibri finanziari possono applicare al bilancio di prevenzione l'avanzo destinato nell'aula consigliare gli sguardi fissi sullo schermo della televisione hanno tenuto con il fiato sospeso per più di tre ore le decine di dipendenti in assemblea sindacale dello scorso 16 luglio che si ritengono comunque soddisfatti dell'approvazione dei primi tre articoli secondo il nostro parere sta andando bene perché i primi tre articoli sono stati approvati con molta quasi facilità quindi la sinistra è molto nita la destra sta facendo un po' di istruzionismo ma è solamente una forma che loro credono no credono potrebbe essere anche una cosa giusta cioè l'elezione diretta del presidente della provincia quindi o provincia o consorzio che sia quindi insomma credo che domani andranno avanti con questi ritmi per noi sarebbe una salvezza totale totale perché guardate che nelle altre province del nord sta succedendo sta succedendo proprio una catastrofe poco fa ho parlato con uno della provincia dell'ex provincia di Varese mi diceva che sono quasi all'astrigo noi nella buona o nella cattiva sorte con quello spot pubblicitario del nostro governatore siamo insomma siamo stati fortunati nella sfortuna siamo stati fortunati speriamo che si continui in questo modo all'Ars e insomma e ci salveremo tranquillamente che l'articolo 1 l'altra volta il giorno 8 aprile ha sancito per noi un calvario oggi con questa nuova con questo nuovo insomma con l'approvazione invece ci sembra che ci stiamo un pochettino liberando intanto nelle prossime ore i lavoratori si incontreranno nuovamente nell'aula consigliare della provincia per guardare in diretta streaming il prossimo appuntamento all'assemblea regionale siciliana l'assessore comunale all'istruzione Pietro Lorefice comunica ai cittadini interessati al servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni disabili che frequentano la scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado che il modulo di iscrizione è disponibile presso il settore istruzione e ambiente in Viale Mediterraneo al numero 41 al primo piano le istanze dovranno essere presentate entro il 14 agosto prossimo il Promise Land Gospel cioè il ritorno in scena con il musical sulla via di Damasco dopo il debutto lo scorso dicembre con l'anteprima dello spettacolo musicale il coro gospel della chiesa evangelica di via Settefarine curato dal pastore Giacomo Loggia proporrà sul palco del teatro Eschilo la versione integrale del musical dedicato alla vita di San Paolo attraverso l'interpretazione di 16 brani i coristi ripercorreranno la storia dell'apostolo degli stranieri direttore e regista dello spettacolo il maestro Ivan Lazzara l'appuntamento è per venerdì 31 luglio alle 20 e 30 al teatro Eschilo l'ingresso è gratuito proseguono gli appuntamenti musicali nell'ex monastero delle Benedettine a Gela domenica 26 luglio alle 21 e 15 è previsto il recital del pianista Dario Forturello l'iniziativa è dell'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra con il patrocinio della regione e del comune il direttore artistico e il maestro crocifisso Ragona domenica 26 luglio prossimo alle 16 presso il playground della rotonda est di Macchitella prenderà inizio il secondo memorial Enrico Cannadoro di Basket Street Ball il torneo inserito da quest'anno nel circuito FISB nazionale permetterà a tanti atleti provenienti da tutta la Sicilia di cimentarsi in gare 3 contro 3 e 3 point shoot ad organizzare la kermesse sportiva sono Salvatore Bernardo e Antonio Giordano grande attenzione gli organizzatori hanno voluto rivolgere al mondo del volontariato e alla Fidas Adas di Gela infatti non sarà prevista alcuna quota di iscrizione al torneo per tutti gli atleti che doneranno il proprio sangue presso l'unità di raccolta di Via degli Appennini numero 5 prima tappa del campionato italiano di beach volley femminile e maschile a Gela appuntamento previsto per sabato 25 e domenica 26 luglio nella splendida location di uno stabilimento balneare l'iniziativa porta la firma del volley Gela preseduto da Fabio Cipolla prevista la partecipazione di 16 squadre per un totale di 32 atlete di fama nazionale per l'occasione verrà allestita a bordo campo una tribuna con 500 posti a sedere per consentire ai tanti appassionati di seguire ogni attimo delle partite speaker d'eccezione sarà Fabrizio Bitto voce ufficiale del campionato italiano le gare di sabato avranno inizio alle 9 e termineranno alle 22 domenica l'inizio delle sfide è previsto sempre per le 9 la finale si disputerà invece alle 19 saranno presenti anche l'associazione donatori autonomi sangue preseduta da Enzo Emanuello ed un gruppo di giovani Fidas Adas saranno distribuiti gadget al fine di sensibilizzare atlete e tifosi alla donazione del sangue continua la rassegna teatro e cinema sotto le stelle promossa dalla compagnia teatrale antidoto di Gela oggi alle 21 e 30 la compagnia teatrale porterà in scena la commedia Na Farsa domenica 26 luglio sempre alle 21 e 30 sarà proiettata la versione restaurata del film il postino di Massimo Troisi con lo spettacolo e tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione per averci seguito fin qui arrivederci a domani grazie a tutti i nostri spettacolo grazie a tutti i nostri spettacolo grazie a tutti i nostri spettacolo grazie a tutti i nostri spettacolo